Ciao a tutti e ciao a tutte Questo è il mio nuovissimo video e in questo video vi faremo vedere i nostri acquisti da i gigli questa è la Francesca, una mia amica che vi avevamo già parlato su Instagram e sono andata in tanti ricotti quindi forse questo video lo dividerò in più parti, ora vi fa vedere le sue cose che ha preso da Pramart poi le mie Allora io avevo preso molte più cose soltanto che visto che dopo sono andata a casa così non ho avuto la possibilità di portarle tutte partiamo con questa maglietta dei Kissi Cantanti e questa viene 8 euro e è una media cropped molto corta e questa qui con un pantalone a vita alto ci sta sempre bene questa è stampa normale invece la cappa è di peloncino molto carina, normale da abbinare facilmente sono fatte bene si è carina poi andando avanti questi jeans che sono una 38 e sono molto carini non sono skinny come tutti gli altri ma sono come si possono definire? sono un po' larghi tipo i pantaloni a culotte quelli morbidi ma in jeans si chiamano cropped come modello cropped e questi vengono 17 euro se non mi sbaglio si e neri normali perché avendo tanti skinny comunque ti fa sempre comodo un nuovo modello ma poi sono anche un pochino più eleganti secondo me poi questa qua è una come si chiamava? camicetta vabbè una camicetta come si chiamava? barca a baton a baton questa è una 38 e viene 8 euro è tipo a retina un po' a costina è troppo carina poi secondo me è leggerita è un cioè è sintetica quindi farà sudare però essendo così tutta bucherellata è fresca è carina si e poi è una cosa diversa non come si chiamava 8 euro si 8 euro l'avevo già detto poi due pantaloni due shorts dello stesso modello soltanto che ho dovuto prendere una taglia in più in queste perché erano finite le taglie piccole quindi questa è una 40 vita alta bottoncini molto classica carina bianco che mi servivano un paio di pantaloni bianchi si sono lunghi non sono troppo corti e questo è blu normale jeans e questo invece è bianco questo si possono abbinare benissimo anche con la camicetta di blu e appunto questi è venuti tutti i due 15 euro poi queste qui che sono delle pochette carine da bianco tipo ci si può mettere dentro creme anche per il mare carino questo è lilla giallo e rosa metallizzato queste sono vengono cinque tutte e tre poi c'erano anche rosse verdi e bianche si ho preso anche quelle soltanto che non le ho portate perché stanno uguali e poi ho preso questi orecchini che mi servivano perché io li stand di tutte le parti gli orecchini e quindi ho preso questi qua che sono tutti a cerchio dai più piccoli ai più grandi e oro normali 1,50 euro si è staccato il prezzo perché si sono bagnati ma in sconto carini normali speciali ok ora comincio io con tantissime cose allora ho preso uno shorts mi sta un po' grandino tutto è una 46 europea mi stanno un po' grandino devo dire la verità però sono lunghini e quindi mi piacevano più larghi e sono il modello mom short semplici bellini bianchi che quindi stanno bene un po' con tutto 11 euro poi sempre short shorts ho preso una salopetta perché io mi ho avuto proprio da piccina di jeans però bianca non l'ho mai avuta e secondo me è troppo carina anche per la sera con una camicetta sopra maniché corte che ce l'ho molto colorato sono belline semplici bianca al taschino qui e qua un po' setta strappatina semplici questa 9 euro invece che mi sembra 17 si che poi erano molto buoni questi sconti si non ci sono tantissimi sconti perché hanno già dei prezzi molto bassi però per 9 euro non la potete c'è lì ha due bottoncini qua semplice bellina poi in lungo invece ho preso questo jeans che io ho più di jeans non le mi piacciono cioè io i jeans mi piacciono quelli mom oppure mi piacciono i pantaloni classici neri un po' latini blu così però questo mi piaceva tanto è morbido e ha una saccia ci sono delle taglie buone che quindi non stringono cioè non mi stringe questa e ho deciso di farmi una taglia un pochettino più grande perché mi torna meglio con così lastica skinny quindi sulle stacce le stacce qua è tutto strappato e ha tutta la banda così laterale bianca rosa e argento troppo troppo carini questo mi sembra 19 questa che taglia sono? 46 non lo so 19 euro quindi per un jeans carino così anche perché andando comunque nell'interno mi servono e poi tipo cioè comunque noi cresciamo in fretta quindi 19 euro non è anche perché se si vada sub 2 ho preso una tuta semplice nera però ha questa banda che è un po' grossetta devo dire la verità però mi piace così tutta colorata allora io le tute le odio però comunque mi servono perché ogni tanto faccio qualcosa con le tute quindi è una tutta semplicissima nera con tutta la riga e in fondo ha il poltino io però faccio l'altro svolto in attrazione stavo troppo lunghi questi mi sembra 11 o 10 però sono semplici 10 euro c'era anche la felpa abbinata però non l'ho avuta prende perché non mi piaceva tanto il modello poi ho preso una canotta sportiva eccetera l'estate che è più buono in palestra cioè l'interno però l'estate è più caldo quindi hanno bisogno di una canotta così poi c'è una taglia proprio grande perché le voglio larghe queste qua e sotto ci metto un po' sportivo bellino dietro e dietro è tutto buccherellato quindi fa veramente uscire l'aria non è caldo è quel tessuto sintetico che si suda però avendoci questa retina ehm no no avendoci questa retina secondo me ci si sta bene e l'ho pagata 2 euro invece che 4 già 4 è la poppa 2 euro poi ho preso un costume perché perché mi hanno trovata bene con l'altro quindi l'ho ripreso uno che questo è turchese con scritto Santa Monica che è il 1984 questo l'ho pagato 6 euro è molto vero ho preso la bandana rossa perché ce l'ho già nera di Primark mi è tornata comoda perché è molto morbida quindi ho voluto attendere anche rossa che secondo me alzo perché 2 euro poi ho preso una camicia da notte io ce l'ho un'altra già di questo modello perché io l'estate odio ma anche l'inverno i pantaloni quindi sono sempre con queste camicie da notte quindi non sono i pantaloni e ho preso questa qua Tiffany Tiffany con come si chiama lei? lei è non me lo ricordo lui è Kikko Kikko e Mrs non lo ricordo della bella bestia comunque bellino poi io adoro la Primark che le cose di la Disney oppure le cose comunque di Harry Potter così hanno sempre il cartellino troppo troppo carino quindi molto semplice lunghina vedete io ho preso una L perché non mi piace la mitta all'archino 7 euro poi ho preso un captano per il mare un copricostumo non so con le piatte ha anche questo abatto perché io le amo tutti i copricostumi ce l'ho così e ha è trasparente ha questa manicona grande tutta con mandala si è bellina anche io dovevo prenderla soltanto che poi dopo non c'erano le taglie quindi non l'ho la rifinitura disegno rosa fluca mi piace tantissimo e ricamo e in fondo sono nella parte però davanti uguale il disegno e niente sta un po' lunghino poi quando va messo a basso però vabbè non mi dobbè metterla troppo avere altro come dicevo e questo ho preso una 44 42 non lo so e l'ho pagato 15 euro comodo un po' da stare in piedi quindi si deve mettere in postura scuso per la lunghezza di video poi ho preso una borsa figo perché la nostra si è rossa quindi c'è di mamma la presa però mi sembra tutta bene si è carina poi è molto capiente è fatta così quindi è verticale però è comoda perché tutte le ciotole le mettiamo sopra quell'altra le bottigliette all'altro secondo me può essere comoda l'altra è la più grande però intanto che non le troviamo una più grande va benissimo questa tanto questa 8 euro quindi si infatti 8 euro è poco si chiude con la cernierina e poi ha questo che non so bene si può anche chiudere vi faccio vedere che mare è comoda se andate in viaggio non lo so andate in viaggio in un posto che vi serve la borsa figo è comodissima piccolina si chiude large cool bag e qui ha anche la retina per metterci non so cose che non serve il figo e qui per metterci le posate secondo me qui e quindi è chiusa di poter mettere tutte le posate troppo carina 8 euro poi ho preso il gonfiabile per il mare io ne ho presi 15 mila perché sono stra bellissimi e alla piscina quindi io ho preso questa perché comunque io a mare ci vado poco però quando ci vado mi piace avere il matassino e poi quando non c'è nessuno nella piscina il mio bagno lo posso utilizzare e è fatto a conchiglia non l'ho aperto quindi non so la grandezza cioè la grandezza dovrebbe essere cittura qui è 160 per 105 date 60 ma sarà un metro e s... vabbè è 1,60 per 1,5 vabbè via 5 quando sarà aperto magari in un vlog più avanti ve lo farò sicuramente vedere e la cosa secondo me più bella è che ha penso di aver capito i brillantini che si muovono io ho preso il tucano che c'era un bel tucano tipo fenicottero quelli grandi il tucano poi ho preso la poltrona una poltrona bellissima e poi il materassino che è fatto a cassetta quelle da mettere e poi la caramella quella si il portacaramelle quello che ci metti il soldino giri e questo ha pagato 12 euro quindi magari più avanti in altri video ve lo farò vedere aperto ah e poi c'erano anche i portabicchieri gonfiabili i piccini io ho preso anche quelli poi ho preso un telomare perché andrò in Grecia a settembre quindi mi servivano dei teli piccini segni gioccolini allora ho preso questo qua che è righine azzurre tiffany rossa e bianche è un rossino chiaro dell'azzurri troppo carino ha tutte le frangette bianche e in fondo ha la scritta sunset days mi sembra in fondo c'è scritto d secondo me d non lo so vabbè d a z e non ho capito dopo guardiamo è troppo carino questo è pagato 10 euro mi sembra però per un telo è buono perché comunque è in cotone cioè spugnetta 10 euro quindi è comodo per il bagno di riasciugare e tutto poi ho preso un pigiama invernale già che ho pure dopo non lo trovarlo mi piace probabilmente troppo perché l'ho preso anche questo inverno a righe e l'ho voluto prendere questo con gli unicorni comunque ho trovato il mio fantastico ricordo sto scherzando e comunque è troppo carino perché ha tutti gli unicorni e ha le rifiniture rosa fluo questo questo lo ha pagato 10 euro e e ha tutti i bottoncini anche molto carino glitterosi allora io ho voluto prendere un XL di questo perché l'anno scorso avevo preso una M e mi stava piccola la L già mi sta abbastanza grande però mi sta già giusta e qui ho voluto prendere la XL almeno mi sta largissima poi c'è l'ultimo sacchetto di di Primark allora in viro 5 ho preso l'infraditino allora infadito costa 3 euro con tutte le tiffari di base tiffari con tutti i disegnini qua e le palline non di cotone non so di cosa siano ma non sono di cotone vabbè ho capito 3 euro anche se si rompono pace poi ho preso il pop per la palestra che metterò sotto la cannottina la fucsia troppo 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 carino così semplice 4 euro e ho preso le tip per fare ricostruzione scrivetemi qua sotto se volete anche voi che faccia la ricostruzione un video vi faccio vedere come vi faccio la ricostruzione quindi scrivetemelo queste qua sono a mandorla però vabbè dobbletaglio 3 euro e 50 poi per un regalino velocemente vi faccio vedere ho preso questo pigiamino corto col dietro così con scritto world made team che ho pagato 5 euro i regalini sono cose carine piccoline che non e insieme a quella con i regali l'ho preso delle mollettine di mini a 2 euro e 50 poi ho preso ho preso la pochettina bikini bag che io ho preso uguale identica bikini bag è comoda perché è in silicone e quindi e quindi è comoda per costume bagnati e lo samber ci ha scritto troppo carina un euro poi ho preso due vetrini per il cellulare che io lo compro ogni volta che ci vado che scorta ne ho già due una a casa ora ne ho preso un altro e sono comodi perché per 2 euro e 50 sono molto buoni ho preso 6 6 7 6S 7 poi anche per l'8 e ne ho preso due questo perché è qui però vabbè 2 euro e 50 poi ho preso questi cosini qua che hai preso anche te l'ho preso anch'io per il reggiseno quando ti cascano le spalline oppure quando ci sono le cannottiere con vedete fa così 2 euro e 50 è un pochettino 2 euro e 50 perché i dati zeni spostano meno a 1 euro e 50 però l'ho preso ho preso questo portafoglino qua che lo dividirò con mia mamma magari quando andremo le portiere ma credo che lo userà principalmente mia mamma semplicissimo qui ha le più scompatti per i soldi di carta con i spiccioli qua il soccettino è in cottele cioè pelle finta che costruisce un euro qui ha la cosiddetta trasparente varie carte per le carte 4 euro poi ho preso questi che sono i dischetti di cotone che vi consiglio tantissimo se è quelli grandi che è quelli piccoli ma a quelli grandi lo compro da poco quindi non mi stersivano 0,75 centesimi e sono 120 poi ho preso questi che li ho utilizzati tantissimo anche mia mamma li utilizza perché quando ci si mette il mascara almeno se rimangono i grumi o qualunque cosa fanno comodo perché si levano sono le scogolini ormai a 2 euro ci sono quelli volumizzanti definanti definanti cioè che praticamente definizzano si definizzano non si dice definizzano non so come si dica come si dice che definiscono 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 le ciglia le ciglia poi ci sono quelle incurvanti e quelle allucanti quindi comodi poi ho preso le spingi cuticoli che ho utilizzato sempre per fare le tip quelli di legno di arancia che si chiamano due spugnette semplici quindi ho tipo 15 però ogni tocco le cambio e infine ho preso questo che è un cosino dove metto dentro le dita e si puliscono i pennelli un euro e un profilino piccino così che sa di borotalco che lo porto anche in viaggio 3 euro che ha dentro i brillantieri che si muovono questa non l'avevo vista wow si sa ripulito si si non niente di speciale quindi questo era tutto il nostro shopping da Primark ora vi lasciamo alla seconda parte che saranno le shopping negli altri negozi grazie ciao 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 Grazie per la visione!